Simona, la luna non vuole guardare. Cara sorella, ti scrivo questa lettera da vulcano. Sono le 3.26. Domani è il tuo compleanno. Non sarà un compleanno gioioso. È successo qualcosa, credo, di inevitabile, o meglio, ineluttabile e scioccante. Un raptus, una lite, un'interruzione, l'ictus di un rapporto felice, finora. Sarà un compleanno diverso, ma forse ti farà riflettere su una cosa. Sei ancora bella, sei ancora giovane, dico ancora, perché così si dice quando una donna non è più una ragazzina. Avevi trovato un posto, non solo nel tuo cuore, ma anche a casa tua, per un uomo che ami e che è circondato da te, dalle tue figlie, dalla tua mamma, dalle sorelle, quando ci sono, dalle persone che ti aiutano, dalla tua segretaria che arriva alle 7 del mattino. E tutto questo rutilante mondo femminile, perché poi alla fine sono tutte donne, forse, può turbare un maschio, che sia basico, intelligente, un artista, un medico, un ingegnere, è uguale. Lo turba, perché gli uomini sanno che le donne possono arrivare a tutto, le amano per questo, ma allo stesso tempo temono di non riuscire a eguagliarle. Ma soprattutto, cara sorella, tutti gli uomini, in generale, si acquartierano nei cuori delle donne. Ci bivaccano un po', si pavoneggiano e allo stesso tempo soffrono di un certo sottile rancore che si potrebbe definire quello del beneficiato, che è una vera e propria sindrome. Conosci quel detto? Non capisco perché mi odi, eppure non gli ho fatto che del bene. Pensaci, tutte le persone al cui fai del bene lo sentono come qualcosa di meraviglioso, ma anche come un fardello, perché il bene che ti viene profuso diventa un debito. E allora ecco che i beneficiati o si sottraggono o permangono, ma sempre con una certa tensione. Ecco, spero che questo 18 agosto sarà l'occasione per capire che le storie d'amore finiscono solo quando lo decidono le donne, o meglio, sono in grado di lasciare gli uomini che, in silenzio, volevano lasciarle e, insomma, li anticipano, togliendo loro pure l'onere dell'abbandono. Detto questo, non si cancellano, non si distruggono, non si polverizzano tanti anni d'amore. Domani, probabilmente, anzi oggi, perché è già mattina, lui non sarà con te, ma potrai capire, in questa coatta solitudine, se lo vuoi ancora nella tua vita. Perché sai che, se lo volessi, lo potresti avere, io soffro perché, quando soffre una sorella, soffri anche tu. Soffro perché abbiamo condiviso la vita, il bene, il male, il dolore, la gioia, la morte di papà. Condivideremo anche la morte della mamma, lo sappiamo, ci tocca. Siamo preparate, o meglio, ci prepariamo ad altri lutti, ad altri dolori, ad altre storie, ad altre gioie, ad altri amori. In questo momento, nel tuo cuore, c'è il nero, il buio, immagino, stasera non c'è la luna. È nascosta dietro alle nuvole, cerca di sprigionare la sua luce, ma non ce la fa ad arrivare fino a me. La notte della vostra lite, qualche giorno fa, c'era una luna rossa, me lo hai detto tu, ora si è nascosta, come a dire, a me sa storia non mi va di vederla. Vorrei essere la luna per non vederla neanche io, ma la realtà è così, la vedo. Non ti voglio far soffrire, perché so che rimestare, dare voce al dolore in qualche modo te lo ripropone. Però è anche vero che riflettere sulla sofferenza è un esercizio che ci aiuta ad affrontarla. Gli americani dicono che nel momento in cui percepiamo una crisi è perché la stiamo superando, nel bene e nel male. Se lo rivolrai accanto a te, lo amerò di nuovo, ma in questo momento sospendo il mio affetto per lui. Sono le 4.01. Buonanotte, amore bello.